buonasera buonasera a tutti ben ritrovati con una valle olimpica prosegue il nostro viaggio all'interno di questo grande progetto quello dell'olimpiadi di mianocortina 2026 la valtellina è fulcro di questo progetto e all'interno delle varie forme di turismo che si stanno sviluppando sul nostro territorio il cammino mariano delle alpine parliamo questa sera con la nostra ospite l'idea culanti buonasera presidente dell'associazione cammicando partiamo proprio dalla vostra associazione l'associazione cammicando è nata nell'ottobre del 2018 a tirano ed è un'associazione a politica senza scopo di lucro è un'organizzazione di volontariato un odv nata con uno scopo ben preciso quello di dar vita sul territorio della provincia di sondrio a un cammino che oggi si chiama cammino mariano delle alpi sulla falsa riga diciamo di cammini molto più conosciuti come quello di santiago la via francigena e molti altri che oggi ormai stanno prendendo vita e diciamo che inizialmente l'idea mi è stata data da mia figlia federica durante un mio cammino a santiago nell'ultimo tratto del cammino francese e lei che ha un grande amore per la valtellina mi fece proprio notare che era inutile andare a pellegrinare altrove quando il nostro territorio offre tantissimo da lì ho contattato un gruppo di amici con la stessa mia passione per i cammini di tirano tutti di tirano e abbiamo iniziato a valutare se sul territorio della nostra provincia ci fossero le condizioni per creare un cammino a tappe che portasse al santuario della beata vergine di tirano non solo per campanilismo perché per noi è a una valenza molto importante ma anche perché come sappiamo dal 1946 è stata proclamata patrona celeste di tutta la valtellina e quindi abbiamo pensato costruiamo un cammino che abbia come funcro il santuario però al santuario vorremmo che si potesse giungere da una rete di cammini provenienti da diverse direzioni e quindi abbiamo iniziato a studiare il territorio a mappare i percorsi e a valutare se tra un santuario mariano e l'altro o chiesa mariano del territorio ci fosse una distanza diciamo ideale per creare delle tappe che avessero un inizio e una fine e da lì è partito tutto il progetto ci siamo però poi resi subito conto che non bastano le idee e la passione ma per sostenere un progetto nel tempo ci vogliono risorse ci vogliono le istituzioni a fianco perché bisogna anche rispettare le regole le normative del che regolano il territorio e così via l'avete trovate al vostro fianco quindi ci siamo rivolti da prima alla rettoria del santuario perché un pellegrinaggio ha sempre anche parte da una valenza spirituale certo diciamo prima religiose poi oggi forse molto più spirituale ma poi ne parleremo e poi alle istituzioni in primis al comune di tirano che come sappiamo è proprietario dell'edificio della basilica e infine poi alla provincia che è quella che poi in realtà ha investito molto sul progetto dal punto di vista delle risorse economiche abbiamo trovato da parte loro una risposta molto positiva hanno capito l'opportunità che creare anche sul territorio nostro un cammino di questo tipo poteva offrire sia per rivitalizzare i piccoli borghi eccetera ma anche proprio per far conoscere le bellezze naturalistiche artistiche anche insomma tutte le grandi opportunità che la valtellina offre e a tal proposito sentiamo la vice sindaca di tirano sonia bombardieri e don giampiero franzi persona che ha accompagnato fin dall'inizio il cammino mariano delle alpi la città di tirano in particolare la basilica chiaramente che è il perno del cammino mariano è il fulcro di questo cammino lo è storicamente nel senso che per l'appunto alla basilica convergevano i pellegrini già dalla sua fondazione in poi per per secoli e questo progetto è nato proprio con l'idea di valorizzare questi antichi percorsi e anche quelli più recenti come parte della via di trazzamenti per dare un impulso al turismo religioso che ovviamente per tirano ha una sua valenza importante ma anche diffonderlo su tutto il territorio quindi valorizzando delle bellezze architettoniche e spirituali come altri santuari e chiese lungo il percorso per poter sostenere anche questo turismo slow che è molto in linea anche con innanzitutto con tirano che è città slow quindi si fonda proprio sull'idea di avere un turismo con un basso impatto ambientale e chiaramente i camminatori sono persone che si muovono nell'ambiente anche con una consapevolezza sia di quello che loro cercano ma anche di quello che hanno intorno quindi tirano chiaramente essendo il punto di destinazione sia della via occidentale che della via orientale diventa il fulcro turistico ma anche spirituale chiaramente di questo cammino religioso. questo aspetto del cammino significa guardare significa stupirsi significa contemplare significa rientrare in se stessi e chiaramente la nostra valtellina ci offre questa occasione attraverso la bellezza la bellezza dei panorami della natura che ci porta il creatore ma soprattutto la bellezza del sacro che nei secoli e coloro che ci hanno preceduto nella fede hanno voluto proprio fissare come dimora la presenza di maria la nostra provincia costellata di santuari mariani lungo i secoli veramente la fede ha inciso e chiaramente la gente accorreva si aggregava nel santuario si identificava nel santuario soprattutto la madonna di tirano che il cuore della valtellina il cuore spirituale di tutta la valtellina e chiaramente questo aspetto del cammino ci deve portare a ritornare noi stessi ci deve riportare a pensare al senso alla meta che abbiamo e abbiamo voluto questo cammino mariano proprio perché la madonna ha portato sulla terra gesù cristo e lui la via la verità e la vita e il cammino ci deve portare realmente a capire che possiamo trovare senso vero se ci fermiamo se ci fermiamo anche a meditare in questi santuari che io definisco dei grani del rosario tutti collegati uno all'altro partendo da piantedo arrivando passando per morbenio passando per berbeno dove ci troviamo arrivando poi dopo a sondrio e poi andando avanti a tresivio a teglio per arrivare poi a tirano ed eccoci in studio dunque entriamo più nel dettaglio per scoprire il logo come è nato e poi anche alcuni dati proprio sul cammino mariano il tratto che oggi è già percorribile ma intanto bisogna dire che esistono due loghi uno che è quello proprio dell'associazione è uno che è quello che è stato scelto per il cammino mariano delle alpi di concerto con tutti i componenti del tavolo di lavoro è stato fatto proprio un concorso della scelta grafica è caduta su un su un logo che secondo me è veramente molto bello che è quello che tutti conosciamo che ritroviamo oggi sui cartelli quello invece dell'associazione che è questo ha una storia particolare perché all'inizio noi sette soci fondatori avevamo l'esigenza di trovare una figura un logo che fosse rappresentativo del territorio ma anche evocativo e quindi alla fine dopo aver vagliato diverse idee diverse proposte abbiamo deciso di fondere in un'unica immagine due elementi per noi fondamentali da una parte la l'immagine stilizzata della statua della beata vergine di tirano che ha delle caratteristiche la corona che la contraddistingue il lungo mantello che fu un dono delle popolazioni in periodo di pestilenza nel 1700 e lo sguardo rivolto verso il basso per chi conosce la statua a guardare il bambino dall'altra parte la pigna la pigna che è il frutto del pino il l'albero simbolo della montagna ma che anche comunque rappresenta da sempre fertilità prosperità forza ma che ha anche un significato più profondo perché fin dalle più antiche civiltà e nel in tutte le religioni la pigna ha sempre simboleggiato con riferimento alla ghiandola pineale l'estrema saggezza e illuminazione abbiamo alcuni dati anche sul primo tratto quello percorribile oggi è percorribile tutta la via occidentale che parte dal bellissimo santuario di valpozzo piantedo fino ad arrivare alla basilica di tirano in cinque tappe speriamo il prossimo anno che possa essere completata la realizzazione della via orientale che in tre tappe porterà da bormio al santuario di tirano passando per il parco nazionale dello stelvio e si guarda anche verso le orobie si guarda anche verso la valle camonica in collaborazione con altri altre associazioni e altre istituzioni e sarà una sorpresa per la primavera prossima in quanto si sta rivalorizzando il sentiero degli zabei d'aprica via storica per creare una tappa che prolungherà un cammino già esistente in valcamonica portando fino al santuario di tirano in collaborazione con il cai di aprica l'associazione motta c'è e i comuni di aprica villa bianzone teglio una curiosità come avete individuato i luoghi quindi il cammino mariano dalle alpi abbiamo cercato di ricongiungere i più importanti santuari mariani e le chiese mariani presente sul territorio ma tenendo conto degli undici criteri che il mibac il ministero per i beni culturali prevede per poter essere poi in futuro inseriti nell'atlante digitale dei cammini d'italia per dirne alcuni molto brevemente ad esempio i tratti su asfalto non devono essere superiori al 40 per cento oppure la distanza con le strutture ricettive eccetera di accoglienza non deve essere oltre i cinque chilometri la segnaletica deve essere di un certo tipo devono essere previste delle possibili vie di fuga devono esserci mezzi di trasporto e su questo noi siamo molto fortunati per raggiungere inizio fine tappa e poi molti altri che fosse fruibile quasi tutto l'anno è stato per noi un criterio importante così come renderlo tarabile sulle capacità individuali cioè le cinque canoniche tappe sono comunque divisibili in ulteriori tappe per chi non ce la fa oggi chi intraprende un cammino lo fa con le più svariate motivazioni ma è sempre comunque un'esperienza di ricerca di se stessi di crescita personale e le persone ritornano sempre cambiate da esperienze di questo tipo perché oltre ad arricchire l'essere umano rende diciamo l'uomo aperto al mondo grazie mille presidente le auguro ogni bene per il suo progetto per il vostro progetto alla prossima non mancate